buongiorno da robes motociclista della scorta al giro d'italia oggi quindicesima tappa una splendida giornata di sole una crono scalata l'ultima cronometro del giro da casterrotto all'alpe di siusi il più alto altipiano d'europa ben quasi mille metri di slivello con pendenze massime quasi al 10 per cento buon divertimento buona giornata e ci vediamo in giro grazie